Sono io la responsabile del personale e di tutta la baracca. Maledetto il giorno che me l'hai proposta. Un'ex pogliarellista. Ma ti rendi conto che mi hanno licenziata? Per quale motivo vuole lavorare con noi? Purtroppo sono stata licenziata per una causa ingiusta. Mi hanno sfruttato e usata. Soprattutto un uomo. Cosa sei andato a dire a Trussani? Tanto non riuscirai a farmi fuori. Hai capito? Figlio di puttana! Senti Roberta, te l'ho detto mille volte. A me di Giorgio e Simona non me ne ho fatto un cazzo. Io sono un uomo d'affari. Guardo solo i risultati. Non mi occupo di altro. Preoccupati un po' di più del tuo lavoro. E pensa di più a tua figlia. Che ti rovina pure la reputazione. Vai! Vai a vedere come lavora bene in edicola. Cosa fai quando chiudi il negozio? Chi viene da te? Ma non crederai a queste storie papà? Oggi arriverà quella stronza di mia madre. Meglio tagliare la corda. Hai visto che avevo ragione? Francesca è malata. Da quando l'abbiamo adottata ho sempre percepito qualcosa di brutto a lei. Grazie a tutti. Grazie a tutti.